eccoci bentornati la rana nel pozzo riedi live tv oggi ospite qui alla rana nel pozzo il consigliere di rieti città futura simone petrangeli grazie per l'invito come sta petrangeli io sto bene posso darti del tu per evitare inutili formalismi ci mancherebbe il mio non è inutile assolutamente però per rispetto insomma il tuo è diritto diciamo è un lei diritto dell'ex sindaco di rieti come ci si sente ad essere ex sindaco ma ci si sente bene perché si ha molto più tempo libero si può stare insieme alla famiglia si possono coltivare i propri affetti quindi è sicuramente una situazione migliore ma non è necessario essere sindaci per occuparsi della propria città quindi continuo a fare quello che facevo prima sotto altre vesti e in un altro modo la vedo sorridente e raggiante non è sempre così in genere lei beh dipende dipende con chi sta beh naturalmente un appuntamento come la rana del pozzo non può che suscitarmi dei sentimenti positivi siamo contenti per questo quindi adesso lei che cosa fa famiglia abbiamo detto io faccio l'avvocato che non ho mai smesso di fare faccio il consigliere comunale a rieti e ho una collaborazione collaboro con il presidente della regione lazio quindi insomma mi divido tra la politica e la professione ho zingaretti sì quindi a contatto con lui certo certo come ha visto le dimissioni dal partito democratico ma nicola zingaretti è una bravissima persona che ha la mia stima e che ha dimostrato di essere davvero una persona per bene una persona di parola le sue dimissioni purtroppo sono in qualche modo l'espressione di una crisi che non è stata la crisi di un segretario ma la crisi di un partito che purtroppo dopo due anni non è stato nelle condizioni di sostenere di supportare l'attività del nuovo segretario credo che abbia fatto una scelta saggia dal suo punto di vista una scelta molto ragionata nicola zingaretti fortunatamente non abbandonerà la politica quindi sarà come sempre al servizio della comunità al servizio dei cittadini non le ha mai chiesto di entrare nel partito democratico no assolutamente no perché nicola zingaretti aveva aperto una grande stagione all'interno del pd di interlocuzione con tutti quelli che stanno al di fuori del pd con la sinistra diffusa la sinistra civica speriamo che questo percorso continui e addirittura possa in qualche modo affermarsi ancora di più in questa nuova stagione quindi lei un occhio al partito democratico non gliel'ha mai strizzato o viceversa col partito democratico c'è un rapporto di leale collaborazione noi lavoriamo per costruire un ambito di sinistra e di centro sinistra civico al di fuori dei partiti che però deve necessariamente stare in coalizione stare in stretto contatto con tutti i partiti della coalizione vogliamo essere in qualche modo il lievito per rilanciare il centro sinistra e la sinistra non solo in questo territorio ma un po in tutto il paese bene bene invece rigoletta che è subentrato a zingaretti ma rigoletta una persona seria una persona che fa quello che dice ha sempre fatto quello che ha detto e mi auguro che possa anche in questa nuova sua veste fare quello che ha detto che sono cose diciamo così di lungo di largo respiro e che potrebbero far bene non solo al partito democratico ma più in generale alla politica italiana io credo che dentro il pd si debba superare un antico vizio ossia un partito che sembra più un patto di sindacato tra varie correnti piuttosto che un partito con un'idea di società siccome rigoletta come nicola zingaretti sta spingendo molto su questo sia ricostruiamo una comunità che abbia delle parole d'ordine unificanti e che abbia un'idea di società io credo che questa possa essere la strada giusta per superare i problemi del passato bene sicuramente non ci sarà nessuno che gli potrà dire di stare sereno insomma beh credo di no forse in questo momento storico le parti si sono un po invertite probabilmente chi deve stare sereno è qualcun altro dice adesso più che penso di sì più che letta bene bene un ultimo giro così per capire la sua idea per esempio tra draghi e conte preferisce draghi anche chi andrebbe a cena ma innanzitutto andrei a cena con molto piacere con tutti e due essendo tutti e due tifosi romanisti quindi avremo molto di cui parlare c'è lei è sempre tifoso della roma assolutamente sì ottimo e draghi e conte due persone che posso che hanno dato e che daranno un contributo importante al nostro paese io ritengo però che sia sbagliato personalizzare eccessivamente la politica non esiste l'uomo solo al comando che risolve problemi nessuno ha la bacchetta magica e noi ci stiamo rendendo conto i cittadini italiani si stanno rendendo conto che i problemi che aveva conte li ha anche draghi quindi evidentemente c'è una situazione di carattere generale molto complessa che ha bisogno di un importante lavoro di squadra per cercare di essere superata quindi sicuramente servono i leader ma i leader da soli non vanno da nessuna parte lei ha detto che potranno dare all'italia che cosa intende penso di sì lo hanno fatto perché draghi ha avuto un ruolo da decenni conti conti credo che svolgerà conti per per le cose che diciamo di cui prima di cui prima conte credo che da quello che ha detto svolgerà un ruolo importante all'interno di un movimento 5 stelle rinnovato e rifondato quindi credo che insomma abbia intenzione di rimanere impegnato in politica anche perché fortunatamente la politica non si svolge solamente avendo un ruolo istituzionale ma la si può fare benissimo anche senza avere un ruolo istituzionale militando nei partiti militando nelle associazioni e in generale nelle varie esperienze della vita associata andrà a capo del movimento 5 stelle? sembra che possa essere questa il suo futuro dipendesse da lei quindi la farebbe una coalizione con il movimento 5 stelle? assolutamente sì noi in consiglio comunale c'è una grande collaborazione fra i gruppi del centro-sinistra e il movimento 5 stelle rappresentato da Roberto Casanica credo che sia importante tenere insieme tutte le anime del centro-sinistra e di tutte le forze democratiche e progressiste il movimento 5 stelle sta all'interno di questo orizzonte politico e culturale quindi credo che sia auspicabile un'alleanza a tutti i livelli tra il centro-sinistra, la sinistra civica e il movimento 5 stelle il movimento 5 stelle fa parte del centro-sinistra? fa parte a mio modo di vedere di un campo largo democratico e progressista perché mi sembra che anche un eventuale coinvolgimento di Giuseppe Conte alla guida del movimento 5 stelle situa il movimento da una parte e non da un'altra quindi questa è la mia valutazione va bene, va bene, va bene, sono i paradossi a volte della politica, no? perché 5 stelle ha governato il movimento 5 stelle non c'è dubbio ma il movimento 5 stelle ha anche vissuto in qualche modo una modificazione significativa in questi anni quindi credo che sia necessario prenderne atto ma Rieti però così è così ma Rieti anche se ha espresso insomma un parlamentare sì, ha espresso un parlamentare l'onorevole Lorenzoni, ha un consigliere comunale naturalmente le formazioni politiche che ottengono un voto d'opinione, un voto politico poi spesso hanno difficoltà ad avere radicamento nei piccoli centri e nelle realtà provinciali questo è sempre successo e sempre succederà così come al contrario ci sono formazioni politiche che magari a livello locale hanno un radicamento ma non hanno un'espressione di voto politico e di voto d'opinione io credo che il movimento 5 stelle reatino possa svolgere un ruolo al di là del consenso che ha raccolto e che potrà raccogliere io credo che è una espressione politico-culturale che deve essere tenuta in grande considerazione che noi vogliamo coinvolgere in tutto e per tutto Bene, secondo lei che domanda le sto per fare? Sono stati dieci minuti, ancora non gliel'ho fatta Ma forse cosa faccio domani pomeriggio? Non sulla Roma e nemmeno cosa farà domani Se sono impegnato l'anno prossimo a maggio? Ecco, 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 ci siamo arrivati Che cosa farà a maggio dell'anno prossimo? Ma sarà un mese impegnativo sicuramente, poi maggio è un bellissimo mese, c'è la primavera quindi c'è anche voglia di stare insieme Speriamo che si possa tornare Nell'auspicio che davvero si possa uscire da questo dramma che stiamo vivendo Non sei il primo che mi fai questa domanda e non sarai neanche l'ultimo Siamo un po' tutti un po' banali, vero? Ecco, me lo prendo, me lo prendo, insomma, è notorio che io sono banale e noioso Nonostante, perdonami la battuta, sei una delle teste più lucide del giornalismo Moratino, ogni tanto ti lasci anche tu a delle domande banali Bene, 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 questa ovviamente la metteremo a conto, insomma, quindi quando ci sarà da tirarla fuori Allora, volevo essere un po' più morbido dopo di questa, insomma Non lo sarai Vediamo, vediamo Lei farà il prossimo candidato sindaco del comune di Rieti? Allora, stiamo iniziando a ragionare in vista delle prossime elezioni comunali Io sono sicuramente disponibile e a disposizione della coalizione Ma questa è una cosa che decideremo tutti insieme Perché come ho detto prima Chi siete? No, come ho detto prima Le persone, i nomi, vengono dopo le idee e soprattutto le comunità Noi dobbiamo ricostruire un campo Dobbiamo mettere insieme persone che hanno voglia di dare un contributo per questa città Dobbiamo fare le liste, dobbiamo costruire una coalizione che vada oltre il centro-sinistra classico E coinvolga tutti quelli che sono stati delusi da questa amministrazione E vogliono dare un contributo per costruire un'alternativa E dopo è giusto che si stabilisca anche chi possa guidare questa coalizione Già avete cominciato a parlarne? Beh, abbiamo iniziato, stiamo iniziando perché, insomma, il tempo è quello giusto Anche perché, mi viene in mente, Roma e Milano ancora non hanno i candidati E si vota a fine anno, diciamo a ottobre Quindi siamo in anticipo oppure siamo nei tempi giusti? Beh, io credo che sia necessario iniziare adesso Perché adesso è il momento delle scelte E soprattutto adesso è il momento di spiegare ai cittadini cosa si vuole fare per rilanciare questa città Bene Credo che siano gli altri nelle grandi città che stiano un po' in ritardo Ovviamente esclusi i sindaci uscenti che probabilmente si ricandideranno Probabilmente, non lo sappiamo nemmeno questo con certezza Quindi il centro-sinistra si apre questo cantiere Spieghiamo agli elettori, a chi, insomma, non ha la testa lucida, insomma, come il sottoscritto Esatto, ecco, quindi spieghiamo come funziona Ci si siede, ci si incontra, si telefona Oggi, in questo periodo poi, è difficile incontrarsi e avere rapporti È un po' difficile vedersi, però è possibile farlo attraverso la tecnologia È possibile farlo in piccolissimi gruppi Io credo che sia importante in questo momento coinvolgere le persone E far capire che c'è l'opportunità di creare un'alternativa in questa città Ci sono i partiti politici, le formazioni politiche Che sono abitualmente impegnate in occasione delle elezioni Ma ancora di più ci sono i gruppi informali Ci sono le associazioni, ci sono i movimenti civici come il nostro Che vogliono impegnarsi e che possono da qui a un anno Costruire le condizioni, ad esempio, per presentare una lista all'interno della nostra coalizione L'ultima schermata di Zoom che c'aveva davanti c'era lei, Angelucci, Melilli Ci sono sicuramente i capigruppo del Consiglio Comunale Ma anche i rappresentanti di partiti e di movimenti che non stanno in Consiglio Comunale Mezzetti e Marroni Giampiero è naturalmente protagonista della politica locale da tanti anni E quindi naturalmente è un interlocutore di tutta la coalizione E anche mio personale per la stima e l'affetto che mi lega a Giampiero Insomma una pletora, non in senso negativo Di persone Marroni rappresenta quello che ha detto che stanno fuori Marroni rappresenta Sinistra Italiana, un partito che non è rappresentato in Consiglio Comunale Ma è rappresentato nella società reatina Quindi è giusto che sia coinvolto e sarà coinvolto Da questa chat che è venuta fuori O che potrebbe venire fuori Io credo che sia necessario, come ho detto poc'anzi Individuare delle direttrici che ci permettano di coinvolgere le persone Che vogliono dare una mano e che vogliono anche mettersi in qualche modo a disposizione È sempre più difficile coinvolgere e chiedere alle persone di candidarsi Io credo che sia in questo momento necessario far capire che c'è bisogno del contributo di tutti I partiti non sono più sufficienti da soli C'è bisogno della cosiddetta società civile organizzata C'è bisogno dell'associazionismo C'è bisogno di chi è impegnato nel volontariato Di chi è impegnato nelle professioni Di chi è impegnato nelle associazioni di categoria Quindi dobbiamo costruire una rete larga Ampia Che permetta a tutti di dare il proprio contributo Più o meno questa è l'idea che aveva anche Melilli Nell'ultima puntata della Rana nel Pozzo Sono contento di avere le stesse idee Ecco però poi ci sono i nomi E poi arriveremo anche a parlare dei nomi Lei non so se lo sa Ha visto l'altra sera la partita Bayern Monaco Paris Saint Germain Sì l'ho vista Che era la partita della finale dello scorso anno Ecco dove voglio arrivare penso già lo sta immaginando Beh diciamo che sì Si vocifera che i candidati alle prossime elezioni Possano essere per il centrodestra Antonio Cicchetti Per il centrosinistra Simone Petrangeli Un déjà vu Un'altra finale Sì speriamo con un esito diverso Come potrebbe finire? Beh sicuramente finirà diversamente Però già c'è dentro questo mood Se dovesse esserci questo déjà vu Mi auguro che l'esito sia diverso Che il déjà vu si blocchi fino allo spoglio del ballottaggio Che non sia proprio lo stesso Perché secondo lei Anche secondo lei si candiderà Cicchetti Beh credo che sia un'ipotesi abbastanza accreditata Come ce ne sono anche altre Insomma è evidente che un sindaco uscente Nonostante quello che ha detto l'attuale sindaco Quando si è candidato nel 2017 Sta nelle cose che possa ricandidarsi Ci sono anche immagino altre possibili candidature Che il centrodestra valuterà nei tempi e nei modi Che riteranno più opportuni Però io non intendo scartare l'ipotesi Che l'attuale sindaco possa ricandidarsi l'anno prossimo E per quale motivo i reatini dovrebbero votare lei? Cioè o quantomeno non confermare Non confermare la giunta Cicchetti Che viene dopo la sua Ricordiamo Esattamente sì Ma innanzitutto perché se prendo per buono Tutto quello che mi dicono i cittadini che incontro per strada C'è una grandissima delusione Soprattutto da parte di quei cittadini Che hanno votato questa amministrazione nel 2017 Non è stato fatto sostanzialmente di nulla Di quello che era stato promesso E di quello che era stato in qualche modo indicato Nel programma elettorale Le uniche cose che affatica questa amministrazione sta facendo Sono cose iniziate, programmate, finanziate e progettate in precedenza E quindi sfido chiunque a individuare una iniziativa Nata in questi quattro anni e realizzata in questi quattro anni La città purtroppo Secondo me, secondo molti Vive una crisi profonda E si trova in una condizione peggiore Peggiore rispetto a quella di quattro anni fa È una città più sporca, senza manutenzione I servizi purtroppo sono di una qualità peggiore Erano state fatte delle promesse mirabolanti Purtroppo nulla di tutto quello che era stato promesso si è realizzato Quindi già solo per questo Io credo che la maggioranza dei cittadini Possa scegliere di non riconfermare la propria fiducia a questa amministrazione No, se fosse così, insomma, già affascinante pensarlo Perché se votassero lei Praticamente è una dichiarazione Di una continuazione di cinque anni fa Del lavoro fatto nella precedente consigliatura Innanzitutto, appunto, eviterei di personalizzare eccessivamente Perché stiamo parlando di ipotesi Parliamo sempre di nomi Tra il serio e il faceto Non c'è dubbio che Sai che qui si chiacchiera in maniera tranquilla Assolutamente io sono il primo ad avere questo Come sai bene, questo atteggiamento Anche un po' di fantapolitica è simpatica Naturalmente c'è bisogno anche di ingolosire le persone che ci ascoltano Che ci ascolteranno O dobbiamo essere sempre ingessati No, assolutamente Naturalmente tu un po' più ingessato di me dovresti essere Perché sei quello che guida questa trasmissione Nonché questa adorevole testata giornalista Grazie, questo la ringrazio Però la rana nel pozzo è nata anche per questo Insomma, per far avvicinare di più la politica Ma noi non parliamo solo di politica Ovviamente Ah, chi ci segue, chi ci sente Non parliamo politichese Parliamo in maniera molto tranquilla La semplice E che arriva Questo è un po' il concetto Mi diceva Non personalizzando la cosa Non c'è dubbio che Io credo che Molte persone che hanno votato Cicchetti Pensando che potessero tornare i tempi andati di 25 anni fa Si sono adesso pentiti E probabilmente non lo rivoterebbero Quindi non c'è dubbio Che secondo me Secondo noi Ci sono le condizioni per una rivincita Non mia personale Ma più in generale Di tutta quella parte della città Che per 5 anni ha tentato di cambiare un po' le cose E di in qualche modo portare nel futuro Rieti Nel 2017 c'è stato sostanzialmente un pareggio Credo che in questi 4 anni Questa amministrazione non ha dimostrato di saper fare E quindi ritengo che il giudizio complessivo Su questa amministrazione da parte dei cittadini Sia un giudizio sostanzialmente negativo Voto Traduciamolo in un voto Ma il voto è molto basso Mi viene da dire Non valutabile perché le cose fatte sono talmente poche Che è difficile anche dare un giudizio Sicuramente sotto le aspettative Anche di chi non ha votato questa amministrazione Anche le mie personali aspettative erano diverse Mi sono dovuto ricredere perché stanno facendo Se hanno fatto peggio delle mie peggiori previsioni Bene, ovviamente daremo replica e risposta anche al centrodestra Come facciamo solitamente C'è un assessore, qualcuno che le è piaciuto un po' di più? Però anche col centrodestra dovrei essere ingessato Non mi devi far vedere più Non devo essere ingessato Ma in genere non lo sono con nessuno Un assessore che le è piaciuto di più Oppure è tutto non giudicabile No, ma... È proprio l'operato dell'Aggiunta Il suo voto è per l'operato dell'Aggiunta? Sì, naturalmente per l'operato dell'Aggiunta Perché lungi da me personalizzare E dare dei giudizi sui colleghi che fanno adesso gli assessori Posso dire che tra i tanti errori che sono stati fatti È stato un errore non fare l'assessorato allo sport Perché penso che ad esempio Roberto Donati Abbia fatto, nonostante le sue competenze molto circoscritte Abbia fatto un buon lavoro E non aver pensato a un assessorato allo sport È stato uno dei grandi errori che ha fatto questa amministrazione Cambiamo un attimo argomento Andiamo sui commercianti E sui ristori Su quello che è successo in questo anno Un gran caos Chiusure, riaperture, speriamo a breve Ha visto, hanno protestato anche a riedi i commercianti Lei, se non ricordo male, era sempre molto vicino alle loro Ma allora, io penso O comunque quello che le chiedevano Che ne pensano? Io credo che innanzitutto Tutte le proteste Quando si svolgono pacificamente Debbano essere ascoltate E quindi credo che le proteste Sia quelle, come dire, domestiche Che quelle che ci sono state a livello nazionale Debbano essere ascoltate dalla politica E dalle istituzioni Quello che ho detto prima È la dimostrazione Mettendo in relazione l'operato del governo Conte E l'operato del governo Draghi Dicendo che i problemi che c'erano prima Ci sono anche adesso È la fotografia di una situazione Complessivamente molto, molto difficile da gestire Noi dobbiamo essere consapevoli Che siamo all'interno di una pandemia globale Dobbiamo essere consapevoli Che quello che sta succedendo a noi Sta succedendo in tutto il mondo E che quindi è anche difficile pensare Che ci possano essere delle isole felici La crisi è globale E quindi anche le soluzioni Dovranno essere necessariamente globali È fondamentale in questo momento Investire e potenziare la campagna vaccinale Purtroppo non dipende solo da noi Perché se non siamo noi a poter produrre In larga scala i vaccini È naturale che siamo in una condizione Diciamo così Di dipendenza Vicino a questo Bisogna porre il tema del lavoro Io credo che salute e lavoro Non possano essere messi in contrasto Ma debbano essere messi sullo stesso piano Come due aspetti ugualmente È sembrata questa cosa, vero? Questo è un errore È un errore che per esempio Si fa spesso quando si parla di ambiente Penso alla vicenda di Taranto Piuttosto che ad altre vicende Spesso si dice Beh ma se vuoi difendere l'ambiente Bisogna danneggiare il lavoro Io sono per il lavoro Quindi l'ambiente viene in secondo piano Bisogna evitare queste contrapposizioni Si danneggia il tessuto sociale Si danneggia la società Perché si può ottenere un risultato a breve termine Ma a lungo termine si produce un disastro per tutti E allo stesso modo adesso Non si può mettere in contrasto Il diritto alla salute con il diritto al lavoro Naturalmente Naturalmente senza la salute Non c'è lavoro E quindi la salute in questo momento Sta al primo posto Però non dobbiamo dimenticare Che c'è un tema centrale e cruciale Che è quello del lavoro Oggi per chi lo ha perso E per chi non lo può svolgere Domani per chi rischia di perderlo Perché noi adesso stiamo in una crisi pandemica Nella quale ci sono strumenti eccezionali E quindi c'è il blocco dei licenziamenti Ci sono i contributi Forse insufficienti Ci sono i ristori Ma quando speriamo presto Finirà la crisi pandemica E verrà chiarito che non c'è più l'emergenza E speriamo che avvenga entro il 2021 Avremo Come dire Un problema Un problema serio Grosso Avremo un problema serio Perché avremo Come dire Il boomerang Di quello che è successo in questo anno Anno e mezzo E quindi tanti rischiano di perdere il posto di lavoro Tante aziende rischiano di non riprendere Tante attività rischiano di non riprendere Perché dopo un anno e mezzo Di paura Di preoccupazioni Non credo che da un giorno all'altro Le attività che sono state chiuse Oppure le attività dentro i teatri Oppure le attività dentro i cinema Dentro i luoghi a chiuso Ripartiranno così Con uno schiocco di dita Perché credo che le persone giustamente Continueranno Ad avere una certa preoccupazione Perché purtroppo Questa è un'altra cosa che abbiamo capito E della quale dobbiamo essere consapevoli Dovremo convivere con il virus Anche in futuro Perché probabilmente Continuerà ad essere obbligatorio Avere la mascherina Probabilmente sarà necessario Ogni anno Fare il richiamo dei vaccini Quindi vivremo in una società Nei prossimi anni Completamente diversa Da quella che abbiamo vissuto Fino al giorno prima Della pandemia Quindi questo per dire Che il lavoro Deve stare al primo posto Nei pensieri Delle istituzioni E del governo E dei governi A tutti i livelli Bisogna naturalmente Se è necessario Mettere più soldi Sui ristori Fare in modo che Se non è possibile Per un'azienda Guadagnare Che quantomeno Non ci perda In questo periodo Che sta chiusa Perché comunque Un'azienda che sta chiusa Ha dei costi Anche se sta chiusa Quindi quantomeno Ammortizzare L'altro problema I costi fissi Ammortizzare quelli Sono sempre rimasti E quindi In qualche modo Individuare un criterio Che prenda come riferimento Sicuramente il fatturato Degli anni precedenti Per evitare di regalare I soldi A chi non ne ha diritto Però prendere anche Come riferimento I costi fissi Che sono costi Che spesso Gravano su tutti A prescindere dai fatturati Dell'azienda Non c'è stato Un ristoro su questo Oh Appunto Quindi per questo io dico Se è necessario Mettere più soldi Perché è stato detto Che è possibile Fortunatamente Fare debito Se è necessario Sostenere ancora di più Le famiglie Che stanno in difficoltà Con il cosiddetto Reddito di emergenza Perché lo ripeto La salute non va barattata Con nulla Ma quando sarà finita La crisi pandemica Dovremo tornare Poter tornare tutti A lavorare E quindi abbiamo bisogno Oggi di non perdere Quel lavoro Che domani Potremmo tornare A fare di nuovo In maniera Insomma Libera E indipendente È evidente Che queste Sono problematiche Che coinvolgono Il nostro paese E tutti gli altri Paesi del mondo Penso che Si è giunto Il momento Di individuare Finalmente Uno strumento Globale E di politica Internazionale Che ci permetta Di ridistribuire La ricchezza Perché siamo In un mondo Nel quale Nell'arco di dieci anni C'è stato Un soggetto Che è diventato Nell'arco di dieci anni Il più ricco del mondo Penso ad Amazon Che ha avuto Un'intuizione straordinaria Ma in dieci anni È diventato Il più ricco del mondo Quindi c'è bisogno Di riequilibrare C'è bisogno Di ridistribuire La ricchezza Perché io penso Sta dicendo una cosa Di sinistra Sto dicendo una cosa Io credo di buonsenso Che potrebbe dire Anche il Papa Che magari Non è di sinistra Ma dice cose di sinistra Sto dicendo Sto dicendo Che Lo vorrei salutare Il Papa Magari Ci fa un intervento Fa un intervento Su questa cosa Che ha detto lei Che dice cose di sinistra E soprattutto Potrebbe venire Alla rana del Pozzo Una di questi giovedì Sarebbe un gran colpo Perché no Un gran colpo Sì Lo aspettiamo Per concludere Molti pensano Che sia necessario Come dire Spingere La crescita Il più possibile Perché la crescita Crea Redistribuzione Io penso L'esatto contrario Che la redistribuzione È una molla Per la crescita economica E quindi Se sia necessario Redistribuire la ricchezza Per cercare Di rilanciare l'economia Perché il tema Non è solamente Il pille di un paese Il problema è Come questo pille Redistribuito Nelle tasche dei cittadini Perché abbiamo Pochi Troppo ricchi Significa avere Tanti Troppo poveri Quindi dobbiamo Finalmente cercare Di rompere Questa forbice Che è troppo larga E io credo Che questa crisi Pandemica Possa essere L'occasione Per davvero Ridefinire Dalle fondamenta Un'altra idea Di società Tutto chiaro Tutto molto chiaro E tornando a Rieti Ci sono purtroppo Dei nuovi poveri E i poveri Aumentano I numeri Della mensa Di Santa Chiara Qui rivolgiamo Un saluto E la nostra vicinanza Ce lo fanno capire Ma anche Caritas E altre situazioni Di questi giorni Il dato Di centinaia di famiglie Il dato non buono Di nuovi poveri Purtroppo Esattamente Oltre che si aggiungono A quelli che c'erano prima E quindi Penso che la sua visione Debba essere riportata A qui Assolutamente sì Al locale Perché Perché ci sono dei problemi Effettivi Per centinaia di famiglie Ricordiamolo magari Perché qualcuno Pensa a 1, 2, 3, 10, 15 famiglie Parliamo di centinaia di famiglie Parliamo di migliaia di persone E parliamo soprattutto Di persone anche Come si suol dire Insospettabili Certo Che purtroppo hanno perso Il posto di lavoro Che purtroppo Hanno avuto Una sfortuna Dal punto di vista Della propria iniziativa Imprenditoriale Che per una serie di circostanze Anche sfortunate Si ritrovano da un giorno all'altro Senza di che vivere Contro la povertà È necessaria Sono necessari Le risorse pubbliche È necessaria Una grande collaborazione Tra istituzioni E associazioni Del terzo settore Associazioni di volontariato E questa città È una città piena Di esperienze di volontariato Tu ne hai citata una Straordinaria Che è la mensa di Santa Chiara Che danno un contributo eccezionale Ci vuole Grande collaborazione Ci vuole costruire Una rete Contro la povertà Ma soprattutto Contro la solitudine Che è un altro Dei problemi Legato alla povertà Ma non solo Legato alla povertà Perché poi Quando si diventa poveri Si diventa soli E viceversa C'è bisogno Di un sistema Che metta al centro Una nuova coesione sociale C'è bisogno Di un nuovo patto sociale Che tenga insieme Le varie classi sociali Che tenga insieme Anche le varie generazioni Un'altra cosa Che è successo In questi anni Di liberismo sfrenato Che si sono messe contro Le generazioni Per esempio Sul sistema previdenziale Sul sistema pensionista Gli anziani contro i vecchi I dipendenti pubblici Contro i dipendenti privati Tutto questo Ci porta a sbattere Tutto questo Porta a sbattere Anche chi adesso Si sente privilegiato Perché vive In una condizione Di agiatezza economica E sociale Se ci sono persone Che stanno male Stai male anche tu Che pensi di stare bene Per questo è necessario Un nuovo patto sociale Un moderno patto sociale Che tenga insieme tutti Chi ha di più E chi ha di meno Per evitare Che qualcuno Venga lasciato indietro E questo patto sociale Si deve fare A livello generale Ma anche a livello locale Laddove possibile La nostra È una piccola città Di provincia Dove ci sono Tante bellezze Tante opportunità Tante potenzialità Ma ci sono anche Tanti problemi Tante famiglie Invisibili Che vivono In una condizione Di povertà Noi magari non ce lo Non ce lo Non lo sospettiamo Perché Riedi appunto È una piccola città Dove difficilmente Sono visibili Queste situazioni Di indigenza Anche se iniziano Ad essere visibili Perché questo Me ne sono accorti Anche io negli ultimi anni Però proprio Per fare Questo Per rompere Questa forbice Tra chi ha di più E chi ha meno E anche chi Non ha nulla Bisogna Necessariamente Mettere Insieme Tutta la società E far passare Il principio Che c'è bisogno Di ricostruire E anche Di riscoprire Un nuovo senso Di appartenenza Alla comunità Nella quale si vive Non si può pensare Che chiusa la porta di casa Come dire Quello che avviene fuori Non ci interessa Non è così Non può essere così Perché quello che succede Al tuo vicino di casa Potrebbe succedere a te In futuro Per questo C'è bisogno davvero Di ridare senso Anche alla parola Solidarietà La stavo per dire La stavo per dire Traducendo tutto La solidarietà Autentica Che tiene insieme le persone E non ci fa sentire soli E le comunità E le comunità Come può essere la nostra Perché noi Alla fine Siamo Un grande paese Diciamo così Ecco Ci conosciamo tutti Bene Petrangeli Grande forma L'ho vista oggi Io la ringrazio Io ringrazio te E ringrazio tutta Tutta la redazione Il gruppo di lavoro Di Riedi Life Che svolge un servizio Egregio Appunto A vantaggio della comunità Grazie mille Grazie mille Stendiamo ovviamente Tutti Tutti i tuoi collaboratori E giornalisti Che lavorano Presenti e passati Giovani Adulti Sul passati Avrei qualche riserva Però Bisogna essere ecumenici Bisogna essere ecumenici Ci dobbiamo lavorare Quando verrà Papa Francesco Forse Avrai fatto questo passaggio Sì farò questo passaggio In più Comunque su quelli presenti E quelli futuri Su cui puntiamo Grazie ancora Petrangeli Grazie a te Grazie a voi In conclusione Il caffè Ve ne parliamo Stiamo quasi per farlo uscire Un mensile pubblicitario Che andrà Di pari passo Con il nostro Free Press Che invece è un quotidiano Tutto gratuito Il caffè Il caffè sarà un mensile Pubblicitario Basso costo Grandissima visibilità Molte aziende ci hanno chiamato Chiamateci ancora Al nostro ufficio marketing Ultima parola Sul Free Press Sta andando veramente 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 molto 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 bene Trovate tutta l'informazione Online su Ready Life E già vi abbiamo abituati H24 La mattina Dal martedì al sabato Invece troverete anche Il cartaceo Come è da fine anno Ad adesso E anche In futuro Belle foto Colorato Smart È nuovo Non è ingessato Tornando a quello che dicevamo prima Per cui Prendetelo E portatelo a casa E fatelo conoscere Grazie ancora Ci vediamo giovedì prossimo La rana nel pozzo Qui a Ready Life TV